Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie 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 ha fatto così a lo mejor le viene così e lo fa e lo fa così e lo fa così con la chica il nostro giorno per lo vedo una luce per questo per lo vedo giocato un partito con il suolo e la torna trae quando la tirava è maleo Ah! Qua calentare bene? Que buono, che sai a questo mio? Si meti due vola, il dico? no 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 Sì, stai matando. Guarda qui, guarda qui saque. Piché. Guarda qui, guarda, non stiamo già con il giocatore. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Guarda qui, guarda qui. Guarda qui, guarda qui. Sì! Sì! Non voglio correre, però ho detto, ho dovuto arrivare. No, vabbiamo farvi già, no? E che, hai che approfittare il tempo. No, vabbiamo già? Corre in media, ma che non puoi fare il controllo. No, vabbiamo. No, vabbiamo. Vabbiamo la differenza. A ver se me pones de cara la tos. A ver, che la storia tiene però che se la ha tintao. No? Si no, de cara le dice la dirige. Eta guapa mi novia, no? Que? Quien? Cual? Cual de la tos? Casi. Sì! Sì! Sì, lei r inventò la tintao del gran punto中,時間 3, è passato. Vabbiamo SEGUIVO! Vabbiamo Sì! Por questo è la tirare alla dibattola senza deceivedda. Se ha di una situazione Oh no.. Todos, tutti tutti, tutti iessi che cambiate la tua inversa…. Tu? È questo io? L'ς banco dall'inizio qui di갔ù all'inizio giocano? explosive il clavaggio di saltinivo? Oui, quello? Sì, la vera dellezza. W Respondiamo che me avviando iessi che? Vabbiamo cambiando o andiamo sul lato? No, non lo so, non lo so, non lo so. Vabbiamo cambiando, non lo sapeva da lato. Va, eh? Vabbiamo, vabbiamo. Oye, qui si sta praticando, se lo que viene si practica. Qui si se pone serio no falla, no falla. Vabbiamo! 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 Che, si tuvimo un, si tuvimos pavo, eh? Si, io sì, io sì, che si buco rosa. Vabbiamo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Yeah? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah? Sì. Si no, mi novia mi ha detto, che è il guapo di novia e io, che? Qual di lato? Qual di lato? Questa è la mela, quasi Si no, si no, che la dirige Questa, che è la mia Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Vieni, seguimlo, vieni per questo lo tirano così, Sergio per due gioco o per tre cambiando questo è io? lo scato dai, no? la direzione per questo è quello che è? per due gioco o tre? per questo? 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 allora va eh si viene a praticare se pone serio no falla No fa' alla Tu uno Tu uno Ole Vamo Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. a tutti. Vamo! Vamo! Qui sta? Vamo! Sacco io, io da qui ne ho scatto. Tu hai scatto da qui? Si. Sacco io. 3-3 1-3 per noi 1-2 per noi 2-1 per noi 2-2 Come! Vamo' cambio de campo Vamo' cambio de campo Vamo' cambio de campo Vamo' cambio de campo Vamo' ganamo' los 3 Un puntito seguido y hasta abajo Grazie. a 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 está abierto hoy sí que está abierto sí sí